L'incidente mortale sul lavoro operaio di 63 anni colpito da un albero caduto. I rifiuti di Roma in Abruzzo, accordo raggiunto con il Presidente D'Alfonso. Difficile la riduzione dei pedaggi autostradali, inefficace la mediazione del Ministro del Rio. Incontri sulle nuove geopolitiche sono in programma nelle scuole superiori di Avezzano. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Apriamo con una notizia di Cronac, incidente mortale sul lavoro a Ortucchio. Viglio di Salvatore, di 63 anni, questo il suo nome, residente a Casale Daschi, frazione di Gioia De Marsi. È morto durante i lavori per il taglio degli alberi nell'area del laghetto di Ortucchio. L'uomo è stato colpito mentre erano in corso degli interventi di pulizia del verde alla presenza di alcuni lavoratori di una detta locale. Secondo la ricostruzione sarebbe stato raggiunto al corpo da un albero caduto. In particolare sarebbe stato colpito alla testa da un ramo. Non è chiaro se la morte si è sopraggiunta per complicazioni causate proprio dal colpo ricevuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Iso Corso, ma per l'uomo non c'è più stato nulla da fare. Per gli accertamenti di propria competenza sul posto si sono riccati anche i carabinieri della locale stazione. Sull'incidente durante il lavoro è stata aperta una inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. E torniamo a parlare dell'emergenza rifiuti. VUF Abruzzo interviene sul problema dello smaltimento dei rifiuti di Roma in alcune zone dell'Abruzzo. Queste alcune considerazioni. La richiesta di trattare in Abruzzo un'ulteriore quantità di rifiuti provenienti da Roma offre l'occasione per qualche riflessione che va al di là della stessa situazione contingente e cui esiti sono tuttora in fase di definizione. Ad oggi, ad alcuni anni in virtù di un accordo di programma sottoscritto dalle due regioni interessate, alcune tonnellate di rifiuti indifferenziati vengono già trasportate ogni giorno dal Lazio all'impianto Aciam di Aielli che trattiene il compost e in via di scariche fuori regioni il secco residuo. Circa le quantità trattate c'è palesemente confusione, visto che il sottosegretario con delega l'ambiente Mario Mazzocca ha parlato di 180 tonnellate al giorno mentre il sindaco di Aielli di 30 tonnellate. Sarebbe il caso che su questioni così delicate che investono la salute dei cittadini e dei territori si cominciasse a rendere pubblici e comprensibili i documenti ufficiali perché qualsiasi cittadino possa immediatamente sapere di che cosa si sta realmente parlando. I rifiuti romani, semmai la soluzione Abruzzo, impianti di Chieti, Sulmona e Aielli, ma quest'ultimo, secondo il sindaco, sarebbe già al limite della propria potenzialità, dovesse riproporsi, concretizzarsi, rappresenterebbero certamente un buon affare per i gestori delle aziende di trattamento, ma pessimo per la collettività che tra l'altro vedrebbe peggiorate le condizioni ambientali del proprio territorio costantemente attraversato da tir carichi di rifiuti. L'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti punta all'autosufficienza regionale, già dal 2019, ed è ben poco comprensibile come questo obiettivo virtuoso possa contemperarsi con l'arrivo di rifiuti da altre regioni. Nelle osservazioni presentate, lo scorsone insieme all'Egambiente, durante la fase di predisposizione del piano, VUF aveva esplicitamente richiesto la revisione al ribasso dei volumi complessi nelle discariche residuali e degli impianti di trattamento eccessivi, alla luce di un impiano che si pone come obiettivi fondamentali, l'azione di riduzione e riciclo, sviluppo dell'economia circolare e della specializzazione dell'impiantistica. È tutto bloccato per la riduzione dei pedaggi autostradali sulle tratte della 24 e A25 gestite dalla società dei parchi di proprietà dell'imprenditore Toto. Questo è stato l'esito dell'incontro, che è successivo all'ok del ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, che ha incontrato i presidenti della regione Abruzzo e Lazio, quindi Luciano D'Alfonso e Nicola Zingaretti. A dire noi è stata proprio strada dei parchi che non si dice disposta a fare nuovi sconti sulle tariffe autostradali, ma disponibile al contrario ad affrontare il tema delle tariffe in una logica strutturale, tanto da aver avanzato diverse proposte di piano economico-finanziario capace di tenere sotto controllo proprio l'incremento tariffario. A chiarirlo è stata in un comunicato strada dei parchi concessionaria dell'autostrade A24-A25 che collegano l'Abruzzo e Lazio sulle iniziative per ridimensionare l'aumento dei pedaggi. Proposte continua la nota che finora non hanno incontrato il favore del ministero. La concessionaria di A24-A25 comunque non è disposta ad accogliere soluzioni che scaricano di nuovo sulla società l'onere delle tariffe. L'azienda sottolinea che in attesa di conoscere ufficialmente l'orientamento emerso nell'incontro tra il ministro del Rio e i due presidenti delle regioni Lazio-Abruzzo ritiene opportuno ribadire la sua posizione, soprattutto alla luce delle notizie che stanno emergendo circa le determinazioni assunte nelle varie riunioni di questi giorni. Naturalmente non si fanno riferimenti ad altre ipotesi, comprese quelle della riduzione dei pedaggi per i pendolari e i suoi finanziamenti ingenti che la società ha avuto dal governo per la messa in sicurezza dei viadotti. E non potranno avvalersi della rottamazione delle cartelle esattoriali i cittadini abruzzesi perché Regione Abruzzo non ha ancora emanato la delibera di giunta relativa alla concessione di questa possibilità. A farlo notare la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, che ieri ha depositato una interpellanza indirizzata al presidente Luciano D'Alfonso per capire se e quando la giunta avrà intenzione di colmare questa inaccettabile lacuna burocratica che è già costata e potrebbe ancora costare migliaia di euro ai cittadini che hanno un debito con la pubblica amministrazione. Una mancanza non da poco, spiega Marcozzi, se si conta il numero enorme di cartelle esattoriali che arrivano ogni giorno nelle case degli abruzzesi. Abbiamo protocollato questa interpellanza, spiega ancora Marcozzi, perché è impensabile che i cittadini della nostra regione non possano soffrire di questa agevolazione consentita dalla legge, ma di fatto impedita dal governo regionale. Le cartelle esattoriali rappresentano uno degli incubi dei nostri tempi, noi lo riscontriamo costantemente anche per migliaia di richieste che arrivano nei punti civici di ascolto SOS Antiequitalia del Movimento 5 Stelle. La legge nazionale per una volta consente una boccata di ossigeno e noi crediamo indispensabile che Regione Abruzzo ponga in essere tutto quanto necessario affinché gli abruzzesi possano, come il resto degli italiani, beneficiare della rottamazione. I tempi stanno per scadere ed è ora che si faccia qualcosa di concreto. Torna nella disponibilità del Comune il vivaio Marsica di via Sandro Pertini. L'amministrazione comunale pensa ora alla creazione di un vivaio intercomunale per coltivare piante ed alberi da impiantare in città. A comunicare ufficialmente la restituzione dell'area approvata nel riordino del sistema vivaistico regionale, sono stati il direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Antonio Di Paolo, e l'assessore Dino Pepe. Si tratta di un'area di circa 23 mila metri quadrati, al momento dismessa. Abbiamo raggiunto un altro degli obiettivi che ci eravamo prefissati, questo il commento dell'assessore all'ambiente Crescenzo Presutti, in quanto si aprono anche spiragli per il mondo del lavoro che gira intorno alla biva estica. Nell'area si potranno coltivare alberi e piante che poi andrebbero impiantati, oltre che in città, nel parco del Salviano, la Pineta e in altre zone. Da un lato ci sarebbe un risparmio di spesa per l'ente, dall'altro si incrementerebbe il nostro patrimonio di alberi e arbusti. L'idea è quella di renderlo intercomunale in modo che anche altre amministrazioni possano investire sull'area che diventerebbe una vera e propria anticamera del verde pubblico del nostro territorio. Sull'area del vivaio sono state realizzate delle strutture edifici pozzo e vasche di accumulo, su cui bisognerà lavorare in quanto abbandonati da troppo tempo, spiega l'ingegnere Stefano Di Fabio, funzionario del settore Sesto Servizio Ambiente. Andrà poi valutato lo stato delle conifere e delle latifodie che al momento si trovano sull'area verde. E avvieremo subito un progetto di cui coinvolgere anche i docenti e gli studenti dell'Istituto Sarpieri, conclude Presutti e la priorità ora è un'importante bonifica dei luoghi e che li renda fruibili. Libera Marsica, in collaborazione con il Preside del Liceo Scientifico Statale di Avezzano, il Professor Francesco Gizzi ha organizzato una serie di incontri per le ultime classi delle scuole superiori della città sul tema delle nuove geopolitiche, al fine di aiutare i giovani studenti a leggere il mondo. E dopo la caduta del muro e con l'avvento della globalizzazione, il mondo è diventato sì più piccolo, ma anche più complesso e indecifrabile, soprattutto per i nostri giovani. Al posto di un muro sono sorti molti altri muri e la globalizzazione si è rivelata come una nuova terribile colonizzazione. Particolari si è passati da un mondo governato, da una doppia polarità, nord-sud sul piano economico ed est-ovest sul piano politico, ad un mondo policentrico nel quale un unico attore, il capitale finanziario, mimitezzandosi in diversi sistemi, a seconda delle aree geografiche e delle storie locali, riesce a condizionare e ad orientare le politiche e il modo di vivere dei popoli. Dall'America anarcoide e narcisista di Trump, alla plutocrazia di Putin, al socialismo ibrido della Cina di Xi Jinping, al Medio Oriente cruciva internazionale di ricchezze patronali, dittature dinastiche, fondamentalismi armati, passando per un'America latina messa in stand-by in un'Africa dalle vene aperte che rifornisce vari mondi di petrolio, diamanti, minerali preziosi e materiale umano. Il primo incontro comunque si terrà l'11 gennaio alle ore 10.30 presso il Castello Orsini di Avezzano sul tema dell'America latina in stand-by. Relatrice sarà la giornalista Claudia Fanti dell'Agenzia a destra di Roma. La comunicazione della referente libera di Avezzano, Donaldo Antonelli. Ed Africa parla che ti ascolta, che ti parlo. Questo è lo slogan del primo incontro in programma sabato 13 gennaio organizzato dalla Tavola della Pace, punto Pace Marsica, che quest'anno riflette sul tema uomini e donna e donna in cerca di pace. L'appuntamento è alle ore 18 presso la parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano, per un momento di festa con padre Mario Pacifici, e di Alleluia Band dal Malawi, che attraverso suoni e colori della tradizione africana, musiche e danze diffondono il Vangelo. La Tavola della Pace vede la partecipazione di diverse realtà del territorio marsicano, fra cui azione cattolica, pastorale familiare, rindertimi, ajaxi, migrantex, caritas, pastorale giovanile, tanto per citarne alcune. L'idea di Alleluia Band all'interno del cammino del mese della pace, come racconta Donatella Masci, che è il presidente diocesano di azione cattolica, è nata dalla volontà di voler guardare la realtà che ci circonda, in una prospettiva allargata, quella mondiale, con un occhio che si fa si attento ai bisogni, soprattutto il bisogno di pace, ma nel contempo riesce a scorgere il bene, il bello laddove esso si manifesta. Vogliamo mettere a fuoco quelle realtà belle e positive, impegnate su vari fronti, nella cura e nel sostegno di un'umanità che soffre, piegata dalla guerra, dalla miseria, dalla prevaricazione, per gettare lo sguardo oltre e cogliere l'esigenza di pace di uomini e donne, bambini e anziani in ogni parte del mondo. I prossimi appuntamenti comunque sono sabato 20 gennaio, ore 17, presso il Teatro di Donatella, Donorione di Avezzano, con il convegno pubblico, aprire la porta all'accoglienza, dalla porta d'Europa di Lampedusa, quella del nostro impegno, con Don Carmelo Lamagra, parroco di Lampedusa, presedierà l'evento il Vescovo di Marsi, Monsignor Pietro Santoro. Domenica 28 gennaio, invece, alle ore 15, la tradizionale Marcia della Pace ad Avezzano, da Piazza Nardelli, dove si trova la Campana della Pace, a Piazza Risorgimento. Alessio Cesareo, 56 anni, nativo dell'Aquila, domiciliato a Celano, è stato nominato dirigente superiore della Polizia di Stato a Prato, dopo la frequenza di corso di alta formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma. Il 4 luglio 2016 è stato nominato dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Regione Marche, dove si è trovato immediatamente ad affrontare l'evento sismico del Centro Italia, che ha interessato pesantemente le province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. 10 marzo del 2017, in seguito al crollo del cavalcavia sulla 14, nei pressi del casello di Ancona a sud, è intervenuto con i suoi uomini sul luogo dell'evento, lavorando con il PM Irene Bilotta in tutte le attività investigative scaturite dal tragico evento. Il 22 dicembre scorso il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, l'ha nominato quest'ora di Prato, seconda città più popolosa della Toscana. Cesareo, laureato in giurisprudenza ed entrato in Polizia nel 1982, numerosi di incarichi ricoperti nella sua lunga carriera, fra tutti la direzione della sala operativa Interforce, istituita all'Aquila, in occasione del vertice internazionale del G8. Durante il terremoto del 2009, che devastò il capologo abruzzese, venne incaricato delle operazioni di trasferimento delle 293 vittime estratte dalle macerie e di resse le complesse operazioni di riconoscimento e identificazione dei corpi. Già dirigente dell'ottava zona di Polizia di Frontiera per le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, è stato insegnato della medaglia d'argento al Valor Civile per le lesioni riportate in servizio il 16 luglio 2001, nell'esplosione di un pacco bomba recapitato al commissariato di Polizia di Avezzano, che dirigeva da alcuni anni. Il bando di gara avanzato dalla San Garitana per la fornitura di 21 autobus, per la considerevole cifra di 6.840.000 euro, è andato deserto. Chiaramente una de-blown simile è stata tenuta secretata. Questo lì, intervento di Mauro Febbo, presidente della Commissione di Vigilanza in Consiglio regionale. Davvero sconcertante e sconfortante prosegue il fatto che in tempi di magra, come quelli che viviamo, un bando così importante che per molti nazionali del settore rappresenterebbe sicuramente una grossa opportunità economica, nessuno abbia risposto. E di ciò che non viene preferita parola. Purtroppo questo non fa altro che avvalorare le osservazioni che da subito avanzato in merito alla fusione affidamento in house e al successivo spacchettamento della tua con San Garitana. Peraltro quest'ultima operazione è fortemente contestata con il sostegno della stessa CGL, tanto da farmi richiedere di ottenere un consiglio regionale straordinario in merito. Infatti nel tempo si è avverato quanto denunciavo. Prima c'è stata una semplice operazione di ingegneria finanziaria per la costituzione di tua spa e affidamento in house del trasporto pubblico locale. Poi l'operazione Spezzettino con cui da tua è stato ceduto nel ramo d'azienda La San Garitana, dove doveva servire solo a coprire il buco di tua, non ha portato alcun beneficio in termini di economici e finanziari per il sistema trasportistico regionale, anzi, ma anche meno un miglioramento dell'offerta di servizi per gli utenti e di abruzzesi. Alla luce di ciò sono a chiedermi prosegue Faibo per quali motivi un bando di gara per la cospicua cifra di 6 milioni 840 mila euro, forse troppo sovradimensionato per una società dal capitale di soli 1 milione 730 mila euro e con perdite si è andato deserto. WWF Italia, sezione Abruzzo, rende noto che 20 associazioni abruzzesi hanno indetto per venerdì 12 gennaio alle ore 10 presso il Caffè Literario in via delle Caserme 62 a Pescara una conferenza stampa di presentazione della carta per la lotta di incendi boschevi della regione Abruzzo, elaborata all'indomani del convegno che le associazioni stesse organizzarono insieme a 5 organizzazioni scientifiche nell'ottobre scorso dopo la terribile estate di incendi che ha devastato la regione Abruzzo. Nel documento che si è rappresentato la problematica dei roghi viene affrontata al dettaglio sui temi della prevenzione, della fase di emergenza, del ristauro, manutenzione, dopo le fiamme con alcune proposte dettagliate e richieste. Queste le associazioni che hanno comunque aderito. Ambiente e vita, Aipin Abruzzo, Archeoclub Italia, CAITAM, Collestivo Studentesco Pescara, Conalpa e Costituto Abruzzo, Fondazioni Genti d'Abruzzo, Italia Nostra, Lega Ambiente, Le Maglialane, Lipo, Lo Spaz, Mare Vivo, Mela Donna Ambiente, Mountain Wildness, Pronatura, Schenzander 18 Pescara, SOA e WWF. Una serata magica, ricca di atmosfere fantastiche, carica di suggestioni quella che ha vissuto il pubblico marsicano. All'interno del Teatro dei Mars, infatti, il balletto russo di Neva di San Pietroburgo ha magistralmente interpretato il Lago dei Cegni, opera che non smette di entusiasmare il pubblico di tutta età. Adulti, adolescenti, famiglie con figli al seguito hanno occupato ognuno dei 790 posti a disposizione, godendo così di uno spettacolo di rara classe e eleganza, capace di suscitare nello spettatore le emozioni più disparate. Archiviato l'appuntamento con la musica classica, cresce adesso l'attesa per il doppio concerto che i nomadi guidati dallo storico fondatore Beppe Carletti terranno ad Avezzano il 29 e il 30 gennaio. Uno spettacolo imperdibile per tutti i fans della storica band italiana e per tutti gli appassionati. I biglietti composti e numerati sono in ventita ad Avezzano, nelle tabaccherie Sisal, di piazza Risorgimento, via Garibaldi, via Corradini, via America e nel caffè dei Giardini, via Cavalieri di Vittorio Veneto. Oppure al fondo informativo, corso della libertà d'Avezzano, dalle ore 18 alle 19.30 o i biglietti numerati online su ticket.it. Passiamo ora alla pagina sportiva con il calcio eccellenza. Sofferta, ma è importante, vittoria interna del paterno che ha regalato la compagine del cupello a riguardo al servizio della nostra redazione sportiva. Vediamo. Perdere dispiace sempre, ma oggi il cupello deve aver accumulato una quantità di rabbia tale che le potrà bastare per tutto il 2018. Paterno confusionario e senza idee, come poche altre volte era capitato di vedere in passato, ma tutto questo fino alla mezz'ora della ripresa. Poi è successo che gli ospiti hanno avuto 5 minuti di blackout totale e da squadra esperta qual è il paterno ne ha approfittato per ribaltare la situazione e portare a casa tre punti fino a quel momento insperati. Marsicani quindi troppo scialbi per essere veri, ma a fine gara Torti farà sapere che il pesante lavoro di richiamo effettuato durante le feste ha lasciato nella truppa parecchie tossine, ancora in fase di smaltimento, e solo a gioco lungo se ne vedranno i benefici. Si inizia il piccolo trotto, ma appare più propositivo il cupello, soprattutto con Tucci e D'Antonio sulla fascia destra. Al diciassettesimo si fa male Celli e Torti deve ricorrere subito al primo cambio. Un cross dalla destra di Baraldi viene corretto di testa da Franchi, ma la palla sfila via a fondo campo senza fare danni. Passano un paio di minuti e su angolo di Gaeta Tabacco spizza di testa per Franchi, che sul secondo palo per poco non arriva alla deviazione vincente. Alla mezz'ora è Giglio a obbligare Marconato alla parata a terra sul primo palo, con un destro scagliato quasi dalla linea di fondo. La risposta ospite è affidata a questo calcio di punizione che spedisce la palla in area locale, dove però non c'è nessun rosso-blu pronto a deviarla in porta. Al trentunesimo comunque il cupello passa in vantaggio. C'è un calcio di punizione sulla tre quarti. Alla battuta va Bruno, che pennella in area un pallone perfetto per la testa di Benedetti, che incorna ancora meglio in beata solitudine e trafigge cattafesta. Fantaggio ospite che il paterno accusa vistosamente, poco dopo è Napolitano a rendersi pericoloso, ma vicino al pari vanno i padroni di casa in chiusura di tempo, con un'azione tambureggiante in area avversaria, che costringe la difesa rosso-blu agli straordinari per evitare il peggio. Si ricomincia dopo l'intervallo e al primo minuto, sulla battuta del secondo angolo, per poco il cupello non raddoppia. Ci vuole un salvataggio sulla linea per evitare il 2-0, ma i nerazzurri non ingranano. Altri tre minuti e il cupello sta per ripetere pari pari l'azione dell'1-0. Punizione di Bruno e colpo di testa di Benedetti, anche stavolta in area, ma senza adeguata copertura. A questo punto Torti effettua una doppia sostituzione. Fuori Gaeta e Baraldi e dentro Albertazzi e Miochi. La partita inizia a cambiare. Al settimo deve intervenire Marco Nato, smaracciando un tiro cross dalla sinistra, che stava infilandosi verso il palo più lontano. Quattordicesimo, Franchi in mezzo per Albertazzi, che però viene preso in controtempo e non riesce ad agganciare all'altezza dell'area piccola. Al diciassettesimo, Pendenza sfiora il raddoppio, con un destro forte sul quale si immola Di Stefano, evitando il 2-0, che probabilmente avrebbe chiuso il discorso. E passiamo al trentunesimo, quando il cupello spegne improvvisamente la luce, e nel giro di quattro minuti subisce il sorpasso. Azione insistita in area rosso-blu, con Albertazzi che va alla conclusione a botta sicura. Marco Nato intercetta, ma nulla può sulla successiva ribattuta di Della Penna, che insacca praticamente a porta vuota. Al cupello cade il mondo addosso e va in confusione. Il paterno capisce che può farcela e accelera i tempi, così che Marco Nato deve ancora intervenire per evitare che Lepre lo superi da distanza ravvicinata. Pericolo che non viene valutato nella giusta misura, e 30 secondi dopo il paterno raddoppia con Tabacco, che raccoglie una precedente respinta del portiere ospite sul colpo di testa di Franchi a colpo sicuro, a 3-4 metri dalla linea di porta. I tifosi di casa stentano a credere a ciò che sta accadendo in campo, esattamente come capita ai sostenitori ospiti, ma gli stati d'animo sono ovviamente agli antipodi. Carlucci prova anche una seconda sostituzione, ma al termine manca ormai poco tempo, e a questo punto i marsicani rinserrano le fila e portano a casa un successo assolutamente isperato, almeno per come si erano messe le cose, fino alla mezz'ora della ripresa. Rischia di non farcela al paterno, alla fine porta via i tre punti, ma non è stato il solito paterno. Torti, qualcuno in tribuna ha detto, scherzando più o meno, troppi panettoni. Non era il solito paterno oggi. Allora, di solito alla ripresa del campionato c'è sempre qualche sorpresa, perché i carichi di lavoro, il fatto che non hai più ritmo della partita. Noi abbiamo lavorato tantissimo, ovviamente il primo tempo si è visto chiaramente il fatto di aver fatto un lavoro molto, come si dice, proiettato per fare bene l'ultima parte della stagione. Il primo tempo sicuramente loro molto meglio, il secondo tempo penso che la squadra alla fine abbia meritato questa vittoria, anche e soprattutto perché ci ha creduto fino alla fine. Loro si sono dimostrata una buona squadra, ma in questo campionato partite facili non ce ne sono, e oggi ancora una volta è stata la dimostrazione. Tanti errori di misura, nel primo tempo pochissime idee soprattutto. Sì, infatti noi c'è una squadra che deve giocare a calcio, nel primo tempo avevamo poche idee, poche soluzioni, lanciavamo sempre questo pallone, ma anche perché i nostri centrocampisti si facevano vedere poco, e per giocare a calcio bisogna che ci vada personale per farsi dare la palla e giocare. Nel secondo tempo questo l'abbiamo fatto molto meglio, e alla fine è arrivata questa vittoria, che sicuramente magari per come si era messa inizialmente era inesperata, però poi alla fine i ragazzi ci hanno creduto, e alla fine credo che non abbia rubato nulla, insomma, anche se il cupello forse alla fine il pareggio l'avrebbe meritato. Gaeta, nel ruolo di regista, ti ha convinto oppure no? Dagli spalti non è sembrata una grande soluzione? Beh, ma come soluzione davanti alla difesa, avevamo lui che ha qualità, però sicuramente un ragazzo che era la seconda partita titolare dopo quella con la Torrese, quindi di conseguenza non c'aveva un buon ritmo di partita, però è un giocatore che se lo riportiamo ai livelli che sa, che lui che sa, ultimamente ci darà una grossa mano, però sicuramente lì abbiamo la soluzione di Giovanni che per noi è un giocatore importantissimo. Senti, alla mezz'ora del secondo tempo il cupello vinceva ancora, che pensavi fino a quel momento? Che pensavo? Pensavo innanzitutto che i cambi che avevamo fatto ci potevano dare un... ci fasse scoccare quella scintilla per poter, come si dice, riprendere e vincere poi la partita. Tanto è vero che poi i cambi che sono entrati sono dimostrati all'altezza, perché poi il ragazzetto 2000, Sannidi, ha fatto bene, Albertazzi quando è entrato ha fatto altrettanto bene, per cui i miei occhi ci ha dato quella voglia, quella verba, anche se poi si sbaglia sempre un po' troppo dal punto di vista tecnico. In uscita abbiamo sbagliato troppi palloni, questo ha permesso loro di riconquistare la palla e magari poi di ripartire. Abbiamo detto che non bisognava sbagliare dal punto di vista tecnico nel momento in cui hai la palla, dobbiamo saper gestire per non permettere agli avversari di poterci ripartire. Oggi abbiamo fatto tanti errori in questo senso qua, dobbiamo migliorare tanti in questo senso. Però, ripeto, adesso ci prendiamo i tre punti, era importante dopo la sconfitta di Montesilvano reagire. Il secondo tempo penso che la squadra l'abbia fatto e dobbiamo ripartire da questo. Panfilo Carlucci, tecnico del Cupello. Cupello che ha fatto la partita, ma i punti li ha presi il paterno. Eppure alla mezz'ora del secondo tempo vinceva da ancora una zero, con merito. Lei ha detto tutto. Io ai ragazzi glielo ho detto nell'intervallo che dobbiamo fare assolutamente il secondo gol. Purtroppo nel calcio chi segna vince. Abbiamo avuto cinque minuti di blackout e abbiamo preso due gol. Alla squadra non posso rimproverare nulla, se non un po' di disattenzione in quei cinque minuti fatali. Però è pure vero che abbiamo avuto più volte, tre, quattro volte, palle nitide per fare il secondo gol. Queste partite, se non fai il secondo gol e non le chiudi contro queste squadre ciniche e dal potenziale offensivo abbastanza importante, può finire così. Il rammarico è solo per il risultato. La prestazione è stata ottima, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Pensiamo alla prossima, però non possiamo permetterci quei tre, quattro minuti di blackout in cui abbiamo preso due gol. Dopo una partita così, quanto dispiace, quanta rabbia c'è dentro un allenatore che vedeva la meta vicinissima e poi è svanito tutto? È brutto. Adesso basta vedere i ragazzi nello spogliatoio che stanno tutti giù abbattuti. Però il calcio è così. Chi fa un gol più dell'avversario vince. Queste partite non le puoi portare fino al novantesimo con l'uno a zero. Devi cercare di fare il secondo. Noi le abbiamo create le palle, però purtroppo se non fai gol non puoi fare nulla, non porti niente a casa. Qualcuno dei vostri tifosi in tribuna diceva che non abbiamo cambi. In panchina non ci sono persone in grado di dare il cambio a chi sta in campo. La realtà è che questa indistinta oggi mi sembra che c'erano 12 fuori quota su 18. Quindi comunque è una squadra giovane e quindi in questi momenti un calo di tensione come in quei 4-5 minuti dove abbiamo preso due gol. Là si vede la squadra giovane. Invece è una squadra un po' più esperta, più cinica, fa il secondo gol e poi la partita la porta a casa. Però andiamo avanti, va bene così, prendiamo di positivo la prestazione e ripartiamo da quell'ora e 20. Però la partita dura 95 minuti. Questa è la verità. Il servizio di sport termina qui questa edizione del giornale. Vi ricordiamo, la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Appuntamento quindi alla prossima edizione. Grazie. Grazie.